Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Peperocka Collectibles con un nuovo episodio di Classics. Ebbene sì, alla fine ci sono riuscito, su richiesta di molti di voi sono riuscito a fare un recupero grandioso raga, Movie Masterpiece 495, ovvero Yoda tratto da episodio 2, l'attacco dei cloni di Star Wars. È un recupero veramente di cui vado super fiero, ci stavo dietro da tantissimo tempo, è davvero introvabile se non a prezzi esagerati, come molti di voi sapranno, ma sono riuscito a trovare il momento giusto, l'occasione giusta per farlo mio. Quindi non vedo l'ora di scoprirlo insieme a voi e di aggiungerlo alla mia collezione. Andiamo subito a scoprirlo raga! Iniziamo come sempre dalla scatola, classico formato Toys per la linea Star Wars, con questo sfondo nero e le bande diagonali di un grigio molto scuro. Nella parte inferiore il logo di Star Wars, in quella superiore questa fantastica illustrazione del nostro Yoda, ciò che andremo a vedere all'interno della scatola. Nella parte inferiore troviamo sempre Yoda in questa posa in salto, con la banda blu ed il logo di Star Wars Movie Masterpiece 495, Yoda in scala 1 a 6. Nella parte laterale, classico sfondo nero con la continuazione della banda diagonale grigia e nella parte inferiore sempre la banda blu con codice e nome dell'action figure. Dall'altra parte invece troviamo il nostro Yoda in un'altra posa, molto fiera, pronto ad espare la spada laser. Parte posteriore, sfondo nero senza nessuna banda grigia stavolta, classiche avvertenze, indicazioni e qui andiamo a vedere l'anno della figure che è il 2019. Sembra sia passato molto più tempo perché anche se è del 2019, quindi sono passati solo appena 5 anni, questa figure vi assicuro è davvero davvero introvabile se non a prezzi esagerati. Andiamo ad aprire la scatola e qui troviamo la solita cover con questa ennesima illustrazione di Yoda, intento a combattere contro il Conte Duco in episodio 2 e qui sempre il logo di Star Wars, codice e nome. E qui mentre va a respingere l'attacco del Conte Duco. Tolta la cover si rivela la nostra fantastica action figure, togliamo anche la parte sottostante della scatola e il solito fastidiosissimo quanto però utilissimo blister protettivo. Ed ecco qui, Yoda, mamma mia già è emozionante averlo in mano, stupendo, già il primo colpo d'occhio è meraviglioso, poi andremo a vederlo più nel dettaglio. E questi sono tutti gli accessori in sua dotazione. Adesso non facciamo altro che tirarli fuori dalla scatola e ad esaminarli insieme. Ecco fuori dalla scatola tutti gli accessori in dotazione al piccolo ma potentissimo Yoda. Come potete vedere non sono tantissimi ma tutti ben realizzati. Iniziamo come sempre dalla basetta, classica base rettangolare per la linea di Star Wars di Hot Toys. Con queste colorazioni, grigio chiave, grigio un po' più scuro, satinate e ruvida al tatto. Stessa basetta in dotazione al conte Duco, tratto sempre da episodio 2. Nella parte frontale, targhetta metallizzata con il logo di Star Wars e la scritta ovviamente Yoda. E nella parte sottostante, l'anno che è il 2019, i diritti di Lucasfilm e Hot Toys. Ad accompagnare la basetta ovviamente i classici palo per le pose dinamiche o volanti ed il sostegno un po' più piccolo rispetto al solito per le ridotte dimensioni dell'action figure che stiamo esaminando. Andiamo adesso a vedere più la ciccia, ovvero cominciamo con il bastone. Un oggetto molto iconico che accompagna Yoda, che è scolpito secondo me egregiamente. A partire dall'impugnatura fino a tutte le venature del legno, anche la verniciatura sembra essere davvero ben realizzata. Sembra un pezzo di legno ma effettivamente non lo è, perché è realizzato con una plastica anche abbastanza leggera. Comunque dalle fattezze bellissime, secondo me, un bel pezzo per quanto piccolino, ma ovviamente è in scala col nostro Yoda. Andiamo avanti, pezzo altrettanto iconico, è la Saber di Yoda. Nulla da dire sull'Elsa, scolpita perfettamente, un Elsa molto semplice, quella di Yoda. Con una classica impugnatura, qui possiamo vedere il dettaglio del tastino verde per poterla accendere. E poi, classico pezzo per la lama, in questa plastica trasparente che ricorda appunto il colore verde della lama di Yoda. Ad accompagnarla, l'effetto Bush, che è il solito effetto Bush delle Hot Toys, insomma, ma comunque ben, diciamo, curvato, ben smussato, per renderlo più realistico possibile. Quindi, ottimo lavoro anche da questo punto di vista. Poi, ci vengono dati in dotazione, oltre a quelle che ha ovviamente su, in questo momento, l'action figure, altre paia di mani e due piedi. Piedi, che sono questi, che oltre ad avere quelli, diciamo, piatti, che sono già sulla figure, ci abbiamo questi, che sono da utilizzare per le pose in salto o in volo. E, secondo me, a parte che sono diversi l'uno dall'altro, questa è un'attenzione ai dettagli che mi piace, ma, per quanto riguarda proprio lo sculpt e la verniciatura, sono qualcosa di incredibile, secondo me. Perché riportano tutte le macchie della pelle, tutti i singoli dettagli, le piccole rughe, le piegature della pelle. E la verniciatura, con queste sfumature di verde, sono veramente incredibili, secondo me. Anche le unghie, con questa sorta di rigatura, data dal tempo, secondo me, ottimi pezzi. Quindi, oltre a questi piedi, realizzati altrettanto bene, ovviamente, sono le mani, che abbiamo di diverse fatture, di diverse posizioni. Questa, ad esempio, per impugnare la spada laser. Questa, per l'utilizzo della forza, potete vedere anche l'interno, con tutte le varie righe della pelle, l'attenzione ai dettagli, anche per le dita, davvero ben realizzate. E poi abbiamo, ad esempio, questa, che è una delle mani, che può essere utilizzata per, appunto, l'effetto scossa, scarica elettrica, che, come ben sappiamo, in episodio 2, avviene. Avviene, cioè, si vedono per la prima volta, contro il, nello scontro con Duku, almeno da parte di Yoda. Come possiamo vedere, ci sono, in questi pezzi, delle, degli agganci, diciamo, dei punti in cui è possibile inserire la mano. E in questo modo, ovviamente, diamo l'effetto desiderato al nostro Yoda. Allora, infatti, andando a parlare di queste scariche, anche queste, molto ben realizzate, secondo me. L'abbiamo già viste nell'imperatore, non in questa forma, non avevano questa sorta di sfera che parte dalla mano, ma comunque, sono le classiche scariche, diverse l'una dall'altra, e questa cosa mi piace molto, perché delinea, appunto, una cura nei dettagli maggiore, da parte di Ottois. E poi, anche la sfumatura, che possiamo vedere, appunto, dell'azzurro, che, da essere più concentrato, va via via scomparendo, fino ad arrivare al bianco delle punte delle scariche. Plastica trasparente, molto leggera, ma allo stesso tempo molto resistente e compatta. Questo è tutto, ragazzi, per gli accessori, quindi andiamo a vedere il pezzo fondamentale, che è il nostro Yoda. È giunto, finalmente, il momento che io, in primis, stavo aspettando, ovvero quello di poter analizzare, insieme a voi, questo fantastico personaggio. Uno dei miei preferiti, se non il mio preferito in assoluto, e forse anche il più iconico, insieme a pochi altri, di Star Wars. Stavo aspettando questo Yoda, veramente, da mesi. L'ho cercato ovunque, a prezzi che non potessero farmi giocare un rene, e finalmente l'ho trovato. Ma comunque, lasciamo la parte i sentimentalismi e andiamo avanti. Allora, parliamo di una figure, ovviamente scala una 6, quindi dimensioni di Yoda sono 14 centimetri circa. Il body è molto duro, molto compatto, quindi nonostante le dimensioni non dà alcun segno di fragilità. E poi andremo a vedere anche le articolazioni. Partiamo dall'Headsculpt. Ragazzi, niente da dire. È lo Yoda di episodio 2. La pelle è verniciata e scolpita in un modo maestoso. Guardate anche le orecchie, come in realtà sono leggermente differenti l'uno dall'altra. Questa ha questo piccolo riccio verso l'alto, mentre questa è un po' più, ha più una forma classica. Il che lo rende ancora più vivo. La pelle è, come dicevo prima, è veramente egregia. Guardate tutti i segni che abbiamo visto già nelle mani, ma qui sull'Headsculpt sono ancora più enfatizzati. E guardate come risaltano il viso di Yoda. Secondo me è davvero uno spettacolo. Per non parlare poi ovviamente dell'espressione, un'espressione molto neutra, colore degli occhi, la bocca. E questi capelli che sono innestati, non li tocco ragazzi perché comunque mi danno l'impressione, poi magari non è così, di essere molto delicati. Come vedete sono diradati, come sono appunto nel personaggio, e vanno a seguire tutta la linea della testa. Bellissimo Headsculpt, secondo me. Poi scendiamo verso appunto il body, dove troviamo il classico tessuto che viene utilizzato appunto per le divise, se così vogliamo chiamarle, dei Jedi. E tessuto anche per quanto riguarda la giacca, ok? Di questo color sabbia. Come vedete c'è un po' di weathering, è un po' sporca, un po' gialla in alcuni punti. Insomma, davvero ben realizzata anche questa. Ovviamente fil di ferro molto leggero, dappertutto, sia su questa parte, sia nelle maniche, sia ovviamente nella parte bassa, che come potete vedere si può modellare a nostro piacimento. Piccola o grande nota dolente, il cappuccio. Cappuccio che non si può mettere al nostro Yoda, perché come vedete è cucito al resto della giacca, della tunica, esatto, come vogliamo chiamarla. Quindi purtroppo non possiamo metterlo. Se vogliamo un'altra, acquistarne un'altra da terze parti, sicuramente ci sarà chi l'avrà realizzata con il cappuccio che può essere indossato al nostro Yoda. Io sinceramente non ne sento l'esigenza, però vandrà a soddisfare le esigenze di molti altri. Quindi ovviamente questa può essere rimossa, portando le braccia indietro, e possiamo anche lasciare il nostro Yoda in questa casacca, con questo pigiamino, io lo chiamo così. Poi scendiamo per andare quindi verso le zampe che hanno riportato i diritti nella parte sottostante. Queste sono le zampe piatte che vi dicevo nella sezione accessori, anche se molto curate. Mi sembra di un verde leggermente più scuro, ma probabilmente è la telecamera, sì. Vi confermo che il verde è lo stesso utilizzato per le mani e anche per il volto, e quindi non c'è rimasto altro che vedere le articolazioni. Allora, sarò molto delicato ragazzi, lo sapete. Quindi la testa che si può muovere ovviamente in tutte le direzioni, anche verso il basso e verso l'alto, non più di così, non voglio forzarlo, ma non più di così mi sembra. Poi abbiamo la butterfly joint e la possibilità di muovere le braccia sia in alto che all'indietro, anche l'articolazione al gomito che è doppia, quindi molto bene, ovviamente articolazione della mano. Vediamo se al busto, sì, c'è una leggera articolazione, ma è leggerissima ragazzi, il body è molto compatto, come vi dicevo, quindi non è possibile fare delle rotazioni chissà quanto complesse, però ci accontentiamo. All'indietro, ostacolato dal tessuto della veste, non può andare più di così, ma non voglio forzarlo, forse qualcos'altro in più riesce a farlo, ma non più di tanto. In avanti, stesso discorso, abbastanza limitato per via della veste. Ginocchio, anche qui c'è questa piccola articolazione al ginocchio che comunque permette di andare oltre i 90 gradi, e una grande mobilità delle caviglie e dei piedi, delle zampe. Davvero, ragazzi, un gioiellino. Non ho nulla, nulla da dire su questo Yoda. Incredibile. Ed eccoci al solito confronto con altri personaggi della stessa linea, dello stesso capitolo 2, l'attacco dei cloni, e ovviamente l'immancabile confronto col conte duco. Le dimensioni sono ovviamente notevolmente ridotte, ma fa una bellissima figura vicino al conte. E qui, Django Fett con i droni. Davvero una bellissima vetrina, questa di Episodio 2. Qui possiamo vederlo, invece, insieme a Qui-Gon, e lì, il nostro Darth Maul. E qui, invece, accanto a Darth Sidious, Palpatine. Ed eccolo, infine, insieme al piccolo Grogu tratto dalla DX-23 con Luke Skywalker, dalla seconda stagione di The Mandalorian. Anche qui, un bellissimo effetto vederli insieme. Eccomi di nuovo qui, ragazzi, per le contusioni finali su questo incredibile pezzo. C'è poco da dire, ho già detto tutto durante l'unboxing. È una figura quasi, quasi, esente da difetti. È una riproduzione fedelissima dello Yoda che abbiamo visto in Episodio 2. Sono molto legato al personaggio, così come al film da cui è tratto. Comunque, è assurdo come in una figura così piccola siano riusciti a ricreare una quantità di dettagli e una somiglianza così grande allo Yoda che abbiamo visto in Episodio 2. Quindi, davvero nulla da dire. Per me è un 9,5 pieno. Una incredibile aggiunta alla mia collezione. State tranquilli per coloro che non sono riusciti a recuperarlo perché vedrete che presto Hot Toys, secondo me, ne farà una ristampa. Forse non di questo Yoda, ma comunque di uno Yoda che abbiamo visto in altri episodi di Star Wars. Quindi non vi preoccupate, avete la vostra occasione di avere uno Yoda in collezione. Ma comunque, come dicevo anche in apertura, sono veramente super fiero di essere riuscito a recuperare questo pezzo. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo la promozione che attiva con il Colosso dei Nerd. Quindi iscrivetevi al Colosso e al mio canale e comunicate al Colosso stesso che siete miei iscritti per ricevere subito 500 punti che corrispondono a 10 euro di sconto. E detto questo, ragazzi, io sono super felice e ci vediamo, come al solito, a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto! Ciao!